Vi mostro l'anello con la germa più da vicino per farvi vedere la lavorazione. Vi mostro l'anello. Vi spiegherò come ho fatto questo anello, come ho creato questo anello. Ho utilizzato per la germa uno smalto colore blu, che dà sulla germa Aldo Passio un colore veramente bello, un effetto bello. Spero che vi piaccia. A presto.